a buon tono a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio siamo su watchdogs un gioco un gioco bello e direi di rinfrescarci leggermente la memoria perché avrei intenzione di portare la serie ad ottobre la serie ad ottobre su watchdogs il terzo capitolo ok poi andiamo a fare qualcosa vediamo che abbiamo da fare no questo era il telefono ma appare così allora abbiamo missione secondaria andiamo a fare questa secondaria non ci gioco da troppo tempo ok con x avevamo il turbo no no non è vero io non l'ho fatto via via vivere ka equality cevo l'esplosivo vero si volevo tuttuguTur Tex thudwu comunque un gioco molto onibicazione ecco của sinceramente a me la saga di Watch Dogs mi è sempre piaciuta tanto troppo e l'ha sempre amata davvero che il gioco Watch Dogs l'avrò giocato almeno tre volte c'è anche Watch Dogs 1 e e mi piace molto da quanto non si è capito allora è da 50 anni che non inserisco il disco di Watch Dogs quindi oggi lo do dobbiamo hackerare e usiamo il drone come ci si sa ok così questo è il nostro drone violo violollo hackerò abbiamo le shot si 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 non me ne fotte ok dobbiamo andare ad hackerare altre chat ah ma chi se no ho sbagliato missioni missioni più facile tipo dati dell'operazione questa dai vabbè ci vediamo sul posto dai Sgari è un gioco molto bello anche la grafica dettagli molti ma pochi ecco è una grafica tutta la sua ecco diciamo così con un po' è troppo luminosa secondo me ha di strani riflessi e robe del genere ah siamo a China City si ok dobbiamo hackerare ecco si nessuno ha l'emergenza ancora chat no 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 ci sta una signorina che 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 sta chiamando la polizia ok ho interrotto le chiamate stupendo che avevamo rubiamo i soldi ah ora vi faccio vedere anche come si hacker abbiamo rompiamo il video per un piccolo spot bene ragazzi questo vi deve essere una lezione di vita ok intanto c'è no merda sta andando a fuoco sta andando a fuoco via 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 e comunque vi devo far vedere come si arresta una persona mhm to aspettiamo che gli sbirri arrivino arrivino con tutta la gamma del mondo dove stanno eccoli guarda sta scappando sta scappando ora lo rincorrono aspetta aspetta ah io ho fastidio lo stanno rincorrendo due auto no l'ha preso no to corpo a corpo mattone ma che sta succede si esplode tutto non ho fatto questo non lo volevo facciamo un bello scontro ora chiamiamo anche abbiamo un intruso abbiamo anche lui che è rincorso dai gangsta aspettiamo gangsta ecco lì sparatoria stupendo chiamiamo la polizia anzi rubiamo prima la carica e chiamiamola pula sta arrivando la polizia gangsta tutto sta arrivando no 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 questa non la prendete aspettiamo che arrivi la polizia dai aspettiamo la pula pula eccola arriva ecco li si buttano inizia la sparatoria bah cosa sta succedendo ah aiuto ah un tizio mi ha investito si stanno sparando ah 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 ooh in poco tempo inizia il bordello look ah 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 guardatelo no mi sparano pure a me chiamiamo altri gangsta madonna mia inizia la strage Cioè questo è il bello Di questo gioco Bordello a casissimo Mo questo esplode Ah Bom Stupendissimo E noi possiamo continuare così Dalla mattina Guarda 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 Mo gli esplode la granata in mano Bom Un capolavoro questo gioco Un capolavoro Comunque ragazzi che dobbiamo fare Usiamo un attimo il drone che qua c'è un coso da creare Io amo questo gioco Da quanto potete capire Che dobbiamo creare Dov'è No non era quello Mo mi ricordo come si gioca Sta sopra Il drone viola Mi piace molto Fa molto poco etero Ecco Sta qua sotto Sta Eccola Eccola Oh Perfetto Siamo riusciti a ottenere Usciamo Chiamiamo un veicolo No no Leva le armi Perché c'avevo la K Guarda Che pompa c'avevo qua Ah Il semi automatico Leva Leva le armi Leva Leva Via Mi usi Questo qua Leva le armi Leva le armi Ok Dobbiamo chiamare Le mie auto Ordini recenti abbiamo Ah Abbiamo anche questo Capolavoro Ce la facciamo consegnare Guardate C'è il casino che è successo in poco tempo Va bene ragazzi Questa è la mia auto Della gogle Elettrica Perché No Leva la musica Leva la musica Leva la musica Aspettate ragazzi Non voglio Non voglio problemi Di copyright Quindi L'ero dimenticuto No Sinceramente Non vorrei nemmeno Denunce da parte di youtube Troviamoci un altro baretto 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 Non troviamo un baretti 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 Questo è un baretto No Ristorante Questo è un baretto Ok ci vediamo al baretto Ferrari Noi ovviamente la rubiamo Come se fosse nostra Perché la agheriamo No No Ok Basta Radio Musica No grazie Via Guardate che bellezza Possiamo agherare anche i veicoli Wee Top Madonna mia che driftata Wow Guardate che capolavoro di driftate Ah questo è il mio quartiere preferito Stupendo Si parcheggia ovviamente nel retro Perché noi siamo I prescelti Oh si esce Perfetto Parcheggiata Chiudiamo anche il garage Oh si alza Giornata rilassante Qua per i tatuaggi però no Si No per favore no parolarci grazie Ordiniamo una birra Allora ragazzi Se vi vi è piaciuto Iscrivetevi Mettete like Ehm Fatevi iscrivere altre persone al canale Abbiamo bisogno Sponsoritati del canale Non lo so Dove vi pare Va bene Ehm Se non lo fate Ehm Allaahualta 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 Allaahualta